E' arrivata la sentenza del Tribunale di Foggia per quanto riguarda un processo per truffa ai danni della ASL avvenuto tra Foggia, San Severo e Terremaggiore negli anni intercorsi tra il 2007 ed il 2009. Si tratta di una truffa da 240.000 euro che ruotava sostanzialmente solo gonfiare i costi dei macchinari da acquistare. 6 assoluzioni, 1 prescrizione e 4 condanne con bene dai 16 mesi ai 4 anni di carcere. Il Tribunale d'Auno ha condannato un ex implicato a 5 anni, 2 anni e 10 mesi per l'ex direttore dell'area patrimoniale dell'ASL e un anno a 4 mesi e la responsabile di una tutta di forniture mediche.